Spider-Man è tornato ed è più forte che mai Non c'è tempo da perdere È arrivato il momento di affrontare nuove sfide Sei pronto? Ci vuole molto coraggio e tutta la tua forza Ma con gli zaini, i trombi e gli astuzzi di Spider-Man Non c'è niente che non puoi fare I nemici se ne accorgeranno E con lo zaino subito perdei il fantastico orologio con il proiettore Nessuno ti potrà fermare The Amazing Spider-Man 2 Prossimamente a scuola